ciao marco ciao tutti gli ascoltatori di pianeta genoa mi giunge voce ho visto anche qualche già qualche filmato che oggi è il tredicesimo anniversario della ricorrenza della fondazione della d'andato in trasmissione della di pianeta genoa trasmissione alla quale sono molto ma molto affezionato sono oltre che a marco ad alessandro ea tutti i componenti dello staff di pianeta genoa trasmissione che è una realtà di genova e che informa tutti i tifosi genoani e non solo va bene e credo che questa trasmissione debba avere lunga vita quindi lunga vita futura tra le altre cose ogni tanto sono ospite e quindi mi fa enormemente piacere dover partecipare alla sua trasmissione marco perché da lontano affettivamente sono legato a quei colori e quindi mi riposo porta vicino a quella mia squadra a quei valori che rispecchiano l'ho detto più volte la mia nazionale e quindi tanti auguri tanti auguri sinceri e affettuosi e mi raccomando e marco siamo sempre a cavallo ciao ciao marco